Non è vivo in Scampia, non so se sai il posto Stai parlando con me? Sì Che ti dici? Tokyo, Tion, è vivo in Scampia No 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 Scampia è in Kenya, è da Corviale Non lo so ragazzi Ah ok ok, è proprio un po' di s***, devi sapere questo Non segui queste cose, ok? Solo segui il tuo nome K JK Cosa è la loro squadra? Oh no Guarda, gioca Darius No, non posso giocare Darius contro il Q Cosa giochi in top lane? Io penso che non giochi a tank C'è Yasuo, Naodius e Jhin No, Trandall va perfettamente perché puoi solo il Jhin Se non potesse andare vuoi Ah, se possano, tu sai da Ah, posso giocare Darius Usoni dici Ah, posso giocare Darius Ah, io posso giocare Darius Eh Ah Ah 噢 Oh Ah 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 22 22 22 dovrei prendere Zilean ma Zilean con Kalista è male è ok ma Zilean con Tramul è molto bello io vi spiego è un'easygame no, vabbiamo vanno questo e dopo? vi destruirò questo game e destruirò tutti i solo Queque games ma non è fortunato siamo davvero enforcati no, non è anglico no, 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 no no, 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 no 5, ma siamo in 4 ora, in 3 no cosa è? AD Carry dovrebbe venire Ok Uso Salaam Oh man 4 persone, è molto bello Met, metti, metti, metti il Yasuo? Questo è il nostro game Chi è? Emi bottene è così male 3 Sì Sì Il loro supporte non vuole supporte Non vuole supporte, non vuole supporte Non vuole supporte L'AD Carry è la seconda volta, Jin Sì, sono tutti animali D'Africa Questo Yasuo è Panda D'Cina È Panda È Panda Credo che Non vuole perdere il mid E il Yasuo è top In Korea Ci sono molte persone che giochino il mid In soloQ Sì 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 Per questo gioco È il nuovo team Sì 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 sì, ehm... Tokio è il coach di TR LCS Chiacciamo fare frugs nel suo meno, ci facciamo A lista! GIA 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 A LISTAAAAA! GIA GIA GIAGIA! Oh fuck, tu sono troppo buono DG Grazie Prima regola di Lone Vabbè, lo vedi questo tre yard? Ma smetti di parlare in italiano, è stata di tazzo Guarda questo tre yard Nautilu Smith Vedi qua dovevo giocare Dario Smith Oh f*** Che succede? Il nostro ultimo gioco è Iojo Il nostro ultimo gioco Oh shit, i suck Attent This guy won't gank me, but Man, i mean, they don't even, they just facecheck me, i'm not used to that Holy shit, go away bro It's not a high euro Okay, maybe it is It's fine, it's fine What the fuck Holy shit Fiddle is top Fiddle is top Fiddle is top Fiddle is top I think that Fiddle is mid, i don't know Hello team Hello Man, this Jin, did you see what he did man, he just walked into that bush Yeah, i don't know I'm not used to that man I would probably miss a hook Yeah, i miss the hooks because i don't expect them to walk No Okay, this part of the list Ah, where did I do, I don't know 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 Ah SS Yasuo Yasuo Okay You returned Fiddle is top peter e se a euro. farmata aria suomi abbraccia fiddletop. 2.8. lo vedi il nome legge il porto ma c'era fiddletop o se vuoi lo traddo poi se c'è muovono ma tu non li traddati tu ti puoi ammazzare fino ma lo ammazzo bro se mi ha detto go 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 oh oh quel q che f*** oh mi va a stun aspetta 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 oh f*** oh f*** holy f*** holy f*** buon lavoro ragazzi un quattro q dopo questo ha ammazzato tutti e due tokyo vabbè ora lo smith non lo smith no ho il f*** questo animale tokyo ho il f*** stop f*** vabbè siamo blocchi bambini non f*** scusate i'm gonna rush around in summon vs. tia western vs. jasui Noi, erano lvl 6, erano lvl 3 What the? Gameprog, gameprog, oh I'm coming Nah, it's fine, it's fine I can fiddle Fun to me, it's like What the fuck, man, this public channel Oh shit, bro So random stuff Vabbè, guarda che beat, no, c'hai te contro questo, codici No, se faccio, vado, non più bene What? Vabbè, vabbè, vabbè Ah sì, non si può giocare, non usi mid You're going back? Blade of the Winkings, or what? Eh, no, but... I don't have mana, bro Teamwork Oh, what, what the fuck? K, 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 I don't have TP, I don't have TP Oh, no, I'm cooking We can? We can kill them, yeah Go, go, go Oh shit, boss, you're so fucking good, boys You're so fucking good K, 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 J as well STP, k, k Don't go down tip, don't go down tip J as well TP Yolo, Yolo Yolo, Yolo swag, you, leg Holololololololololololololololololololololoo Holy fuck, Khalee's still 1 man army Wouuuu Alessia main, b advice raid istannya at least voor power Wanna flash hook, Ginn? Ginn? Ah, here we go! Ha, here we go! No sense it can get Oh, fuck, FUCK! So i decided to go ham Oh, nice My TP, 4 seconds in fear. Just woe mid Now there's no flash Let me get the pink first, man Mettetevi la cazzo quella è la mia lane Oh ma hai rotto il cazzo Deve da un po' Alla raffanculo Alla raffanculo Let's back Let's back Oh my cazzo What the fuck Oh that's It's okay It's okay That felt so bad I lost zero and my support Lol I'm working I'm working Oh they are exhausted Nah Nautilus has no flash Cripp Someone stole Shyvana's red buff I'm coming 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 Calista Calista Do you need flash? Prom has no flash we can go Nautilus no flash too He has WTP He has WTP He has WTP He has WTP That's my support Oh I'm stunned Oh I don't have much What the fuck What the fuck He has flash Oh sei l'avo questo Oh sei l'avo questo Meet 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 Oh Non ma no ma He has WTP 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 Look at Jin items Yeah man I know what the fuck And he killed me He has WTP He has WTP Yeah because I wasn't even in range There I died before that Damn it the port was playing shoes or something Yeah What part Whatever we got this Easy Easy Dude is taking break so long ago I don't know Like they can't really contest it now We have TP they don't He has TP We have TP Jin has no flash Jin has no flash Yeah Prom and Beccare di fiddle a un'inclame Non so' di Nautilus ma non ha flash Caliste, tu vieni? Let's go on Jhin Tosh, Nautilus lo scs Yeah, red buff Oh, what could ya? Oh, what the fuck? He didn't even get in his list Useful jungler Wanted to give him Feed on top Holy shit What the fuck? What the fuck is that? Bananas Fucking team speak man You're taking top boys If no one at me Let go of mine Oh mine That flash Can we take mid lane? Feed on the wall Yes, go go team Go What's gonna happen? Careful, feed will ultimate somewhere Yeah Okay I have TP to call me if you need What the fuck? Fin's coming from here Wow, he has easy rot Oh, I'm dead Coming, coming, coming Ult me Ult me Yeah, if I would be standard What the fuck? No, no, go away Go away, go away Run 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 Holy shit Oh Head life Nice Feed the loot Little flash Oh shit Alright Feed dog is that? Green Free you No, lose No, lose No, lose No, lose No, lose What the fuck? I have to go Yes, yes, yes I have to go I have to go 5 second That's right Go away Go away No, go away Go away And now Go away Go away Go away Holy shit You saved me No Oh No 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 Non lo so 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 Io sono un pantom Siuanna ha 17 spazi Gine, 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 Gine. Oh, non ancora. Oh, no, è meglio. Well, almeno non musica. Gine, non flash. Nautilus è topo, becchi, ragazzi. Ok, eh. No, no, non nautilus è qui. We can go. Yeah, but Fiddle and. Free kill, free kill. Fiddle and, uh. Grunwu è. Fiddle stop. Fiddle stop. Yes, WC. They are coming, they are coming. Am I getting tower, Grun? No 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 look Fido look Fido look Fido look Fido look Fido Huhof 6GERI found sh dUDUDUDUDUDUDEDUDUDUDEDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU dispon referral Santami ne ho mai la! Oh fuck that was close I didn't hear the chin hurt because of the fucking music I told you bro Good job team, very good players Kalista Is this Kalista's more finger? Is Kalista dropped off? Is Kalista dropped off? From Korea, Korea Did Brown flash? No, I think he just used W Nobody flashed Oh dude, look at this Shyvana He's dead Oh shit Oh, the dodges Oh, fucking good The beast I think that she's dead anyway Yeah, she's dead though Yeah Yes, yes, yes Brown exhausted Yeah She's taking time How do you lose her? I really need help to push this fucking tower boys I have nowhere clear They will take bot Can we trade towers? Ah dai, eccomè, eccomè Sarai la toyota I'm doing Prada mill, eccomè Yeah, just let's take two top turrets Yeah They want to rush it Kalista Alright Let me hook It's from behind Kappa Yeah, it doesn't Ehhh We are taking the... Boys, boys, boys Why are you doing the arrow, bro? It doesn't work The fuck it worked? The fuck it worked? Push on Paul Oh, I should hit it I can hit Shyvana No, no, no No, no No, no, no No, 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 no We can't, we can't I'm gonna TP bot I'm gonna TP bot I'm gonna TP Okay Oh, 0, 0, no, please, no, please Where's the TP? Oh, no, wait No, 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 I can't I can't I can't What the fuck? Coming, coming Stararmaine is coming, look at this Cosa? 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 Per questo elo Cosa trolla NICE! NICE BOI! Non c'è nessuna flash Non c'è nessuna flash 22 in chat 22 in chat Cosa? Tu sei Paolo Cannone? Il migliore blitz ever Cosa? Paolo Cannone Il migliore blitz ever Ok Non lo sai? No Non è buono Non lo sai Non lo sai Paolo Cannone? Non lo sai Cosa? Non lo sai Non lo sai Non lo sai Tu hai bisogno di una quest s Guarda l'inventura Guarda l'inventura Guarda l'ha Guarda l'hai Guarda l'hai Oh well played Ah, 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 no, but you saw that. Coming, coming, I'm coming! Ja, 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 ja! Wait, 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 2k gold, guys. How the fuck does Gino have to go? Fiddle, 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 Fiddle. Fiddle, 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 Fiddle. I'm gonna get red. It's all wared here, I think. If we just build Kalista, we win, I think. Yeah, but Fiddle can kill her. Yeah, but it's boring as fuck. Fiddle, Fiddle, careful. Yeah, there is Fiddle here, maybe? No. Shivani is split split. We should just group here and deny them back. Yeah, but if they engage and they got hurt. Yeah, they came bot lane, come. We can build split. We can build split. We can build split. Can we baron? Can we baron? Help Kalista, help shivana, help shivana, help shivana. Help shivana, help shivana. Help shivana. Okay, she's there. Can we baron? Can we baron? No. No, 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 no. Kalista's might. I tank, I tank, I tank. Come, come, come. Let's go. Oh! Fiddle's six. Holy shit, bro! Holy shit! Wanna crit a team, bro? Wanna crit a team? Holy shit! Kalista, take this fucking tower, bro. Yeah. Keep pushing now. Go, go, tower dive, tower dive. No, it's not. Are you sure? Tower dive, tower dive. Holy, it's Talon! Holy shit! Is that team? Holy shit! Ginninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninninn Questa è buona Tower, tower, tower Puoi prendere tower Non so Sto sento Hai due kit, ragazzi URGHH! Sto sentito Fiddle, 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 fiddle Let's go Yasuo, becchio Rai! 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 Vabbè Vabbè Rai! 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 No! Vai! attention! vai! Rai! La tend.. See.. Rai! 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 per la base! questa città è molto buona bisogna 3 persone per me WTF? oh, va a morire Schwan è enorme è abnormale mi farmi bot mi farmi bot tu hai TP se mi bisogna Kalista, qual'è il plan? non lo so, ho solo ho fatto uno qualcuno prende clou no shivana non dà f**k si farmi il loro jungle i farmi all'ora i farmi 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 è quando fingers stop ci state 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 stop c che questo è proprio uno sesto oh, no, 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 no! Sucki, sucki! no, 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 no! che cosa staccio la tua? no, che cosa staccio? quattro che cosa staccio? no, non è più ognuno che è in Italia abbiamo un nuovo try in 20 secondos inib then back, inib then back, inib then back, inib then back, inib then back or maybe we can end? or just don't risk to risk to risk to risk Trundle, Trundle, did you cancel Fiddle's ultimate? Obvisely bro Oh he didn't Yeah, I did Oh you didn't Ok, rip because he's... Bro, bro, I'm gonna f**k you Do you want a pillar in your face? Oh lol, Z0 Oh, what the f**k is this range? I know, holy sh** Get him, get him Nah man, it's 1v5 man Look at me, I'm dancing Look behind me, look at the dance What the f**k, hook 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 you F**king hook No, there's no, there's Oh f**k, I'm here Help ya, help ya Help ya, help ya Calista, ultimate Yeah Oh what? You need to hit it too It went through? Yeah, sure Mate, I had 99 mana and I didn't hit it This is a mess, this is bad as f**k F**k, you can't carry it 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 Ok, just tank it I'm going back Calista, what the f**k are you doing Yes, Calista I need my last whistle Ah, ok So, yeah, yeah I think that you can Only Are you... Oh, die Are you... Baro Just end this mess, boys I have two f**k Can you end, please? Oop, we can't What the f**k, where's my support? What? Oh, I don't have a bro Wait, you don't have to tell me what I have to do Because you can start a bro, you understand? I don't have to kill you If you don't have to kill me Because But who is this f**k? I don't know I don't know I thought it was your friend No, not the game No, no There is a free Nexus Are you sure that... We have to do baron For end this game? I don't know what to buy Random pre-made Baron, baron, baron Kalista? Kalista is afk No, I'm shopping I'm shopping, okay I'm shopping, okay Tell me what? At 1.9 And come fast It's like their inhibitors gonna respawn by the time you come Wait What are you thinking? I think that Shvana I think that there is Fido here There is Fido here There is Fido here What's that stone? Come on Kalista Kalista Oh, that's nice Okay, I'm afk guys No, come on bro Come on bro I'm coming I got what I wanted Just needed a gold from Baran I'm deep in your ass You got that? Come top bro Okay Yeah, right Now go for the red buff Shvana told me to Coming Almost there Okay, Fido is here Fido is here Careful Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? That hook We're gonna die I could back though 2v5 Let's go boys Let's go 1v5 Let's do this Let's do this Oop me Oh, I'm ulting you Holy shit There we go There we go The pillar killed me What the fuck? Can you stop, Kalista? Please Okay, I muted this guy Yeah, I muted him too No No A pillar killed me though Yeah, ult me and Stop the shit, please Don't pillar me again I didn't pillar you bro I just put the pillar Oh, you did You did You knocked me up So Yasu could ult me Yeah Is it actually possible? Yeah Because it knocks me back So Yasu could Army Bro, don't say shit Please I used I 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 No he is in Is I Yup Inhibitori! Fiddlesticks, W, e Sonya? No, no, no Ma ci sono damage In tua notizia Sono troppo lungo Come on Kalista, per favore Questo è un troll del cazzo Oh, sta ruotando Kalista, hai avuto un coccolo quando eri piccolo? Eh? Hai avuto un coccolo in tua face? Per favore Mi racconti! Ok, perfetto Ti metto nella mia notizia Ok Kalista? Poi, chi sei? Talon Sì, sono bene Ciao Ciao, vediamo ragazzi Potremmo avremo il prossimo game Sì Sì Ciao Ciao Sì 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 Ma la stai a vedere la live, Jacopo? Sto colassando Mit, Kalista trollava Ma come?